Inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Uni3 di Gela, presieduta da Angela Scaglione Altamore. Si è svolta sabato scorso nell'auditorium del liceo classico Eschilo, diretto da Giochino Pellitteri. L'Uni3 è da circa 20 anni che svolge un importante ruolo nella nostra città e dà la possibilità agli iscritti di ritornare ad essere protagonisti nella società. Una società in continuo cambiamento per cui è necessario fornire loro gli strumenti per leggere criticamente la realtà. E quindi offriamo un'offerta molto variegata e ricca che appunto consentirà loro di aggiornarsi, approfondire argomenti, conoscerne di nuovi e per appunto raggiungere quelli che sono i nobili obiettivi fissati nello statuto dell'Uni3. Quest'anno l'Uni3 ha avviato numerosi corsi che partiranno da oggi. Oltre ai soliti insegnamenti, le lingue, storie e filosofia, scienze, informatica eccetera, abbiamo per la prima volta un corso di giornalismo e comunicazione, poi un corso di medicina. Durante l'anno si alterneranno i vari specialisti e daranno informazioni, faranno prevenzione perché è molto richiesta dagli stessi iscritti. L'iniziativa di quest'anno è aperta anche agli studenti. Quest'anno grazie alla disponibilità di docenti e dirigenti delle scuole superiori avremo la possibilità di incontrare studenti che frequenteranno durante il corso, in particolare il corso di giornalismo e comunicazione.